Un ufficiale di polizia, il tenente Jeff Neville, è stato aggredito mercoledì 21 giugno 2017 a colpi di coltello nell'aeroporto di Flint, Michigan, nel nord degli Stati Uniti. L'aggressore si è scagliato sul tenente, urlando a La Akbar. Stiamo indagando sull'incidente come un atto terroristico, ha spiegato l'agente speciale dell'FBI, David Jelios. L'assalitore non è stato pubblicamente indicato come un membro del califato islamico, però avrebbe fatto riferimento ai morti in Siria, in Iraq e in Afghanistan. Su richiesta dell'FBI, la gendarmeria del Canada, assistita dalla polizia di Montreal, ha effettuato una perquisizione durata alcune ore nello stabile dove abitava l'assalitore. Tre persone, tra cui due donne, sono state fermate. Ftui, dopo l'arresto, si è mostrato collaborativo con gli agenti e avrebbe confessato il movente del suo gesto agli inquirenti. La polizia lo ha descritto come un uomo che odia gli Stati Uniti. Era entrato nel paese il 16 giugno 2017 da Champlain, in Quebec, Canada orientale, prima di recarsi a Flint, cittadina nei pressi del lago Michigan, di recente diventata un simbolo di ingiustizia sociale in America a causa dello scandalo dell'acqua contaminata. Al suo arrivo in aeroporto, ha trascorso qualche tempo vagando dal ristorante al bagno con due borse vistose. Poi ha estratto il coltello, ha precisato Gelius, e gridando all'Akbar ha coltellato il tenente Neville al collo. Il poliziotto ferito, ora ricoverato in condizioni stabili, non ha mai smesso di lottare, fino a quando il suo aggressore è stato ammanettato.